L'abito di Francesca Fagnani fa molto discutere per il suo prezzo esagerato. Ecco la cifra altissima del suo vestito. Francesca Fagnani, nasce a Roma il 25 novembre 1976 ed è una giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva italiana. La sua popolarità avviene grazie alla conduzione della trasmissione Belve, di cui dal 2018 è ideatrice e autrice. Il suo esordio in tv risale al 2006 quando ricopre il ruolo di inviata nel programma Anno Zero, condotta da Michele Santoro. Durante la sua carriera, si è occupata di mafia infatti, insieme al noto giornalista Giovanni Minoli realizza due documentari sulla criminalità a Palermo. Spesso presente anche come opinionista in alcuni programmi tra cui Quarta Repubblica e Non è l'Arena. Nel 2021 affianca Nicola Savino nella conduzione di una puntata delle Iene, mentre due anni più tardi è scelta da Amadeus e da Gianni Morandi, come co-conduttrice per la seconda serata del Festival di Sanremo. Attualmente dopo la pausa invernale, la giornalista è tornata al timone del suo programma Belve in onda su Rai 2 che terminerà martedì 30 aprile. Francesca Fagnani, il suo outfit da urlo per Belve. Come anticipato, Francesca Fagnani ha ripreso la conduzione del suo programma Belve, ma al di là degli ospiti che si sono accomodati sul tanto, temuto sgabello, tra cui Lori del Santo e Antonella Clerici, a colpire è stato il look della padrona di casa martedì 23 aprile. Sempre glamour e impeccabile di fronte ai riflettori, la padrona di casa, in questa edizione, sembra proprio puntare tutto sulle griffe, alternando i classici taier dallo stile mannish a degli abiti più audaci e sensuali. In particolare ha colpito il tubino di pelle che ha indossato in una delle sue puntate. Il prezzo del capo è davvero altissimo. Scopriamo maggiori dettagli nel prossimo paragrafo. Il tubino di pelle di Francesca Fagnani. Ecco il prezzo e marchio. Per la sua prima serata, la presentatrice aveva optato per un modello, graffiato, in perfetto stile belva, mentre questa volta ha preferito un modello rock in pelle dark. Per essere precisi, si tratta dell'abito midi Medusa 95 firmato Versace. Alla gonna al ginocchio, il busti è steccato a effetto corsetto e le iconiche fibbie gold a forma di medusa sulle spalline. Il prezzo dell'abito, sugli e-commerce di moda di lusso, viene venduto a 3.490 euro. Per completare il tutto la conduttrice ha scelto un paio di collant neri semi coprenti e delle pump di vernice nera col tacco a spillo di lesilla, le Ivy 120 a 624 euro.